Persone che spariscono è diventato uno dei fenomeni più diffusi, se vogliamo, relazionali e quindi bisogna essere pronti perché persone che ti bloccano su WhatsApp, che ti bloccano improvvisamente, cioè perché sono tutte quelle cose che le persone non si spiegano quelle che danno più shock emotivo. Questo è un principio fondamentale. Non spariscono solo i rompipalle, ma le persone che spariscono di fatto hanno questo modo di fare. Intanto saluto anche Green Apple, Roxy Rosa, Patrizia. Le persone che spariscono perché generano uno shock emotivo? Perché tu non te l'aspetti, quindi è una grande interruzione di schema. Perché diciamoci la verità, se uno ha fatto lo rompicoglioni, che ha fatto lo stalker e tutto, beh, devi aspettarti che uno magari ti blocca o che sparisce, eccetera. Però queste cose qua capitano improvvisamente. Capitano improvvisamente e soprattutto nelle conoscenze online, ovviamente, perché le conoscenze online, soltanto anche World Mall, sono sempre delle conoscenze un po' precarie, no? Talvolta, tra l'altro, ci sono anche, si sentono anche delle storie allucinanti online. Recentemente ho sentito di un ragazzo 24enne che è arrivato, si è innamorato di uno online, poi ha scoperto che in realtà era un uomo che lo stava prendendo per il culo. Ma io dico, e questo è arrivato al suicidio perché era follemente innamorato di questa, di questa che poi era un uomo, un uomo tra l'altro di 65 anni, brutto, panzuto, che poi si è suicidato pure l'uomo perché l'hanno vessato poi, come dire, i media e anche l'opinione pubblica lì nel suo paese. Quindi una tragedia, una tragedia conclamata, ma bisogna fare molta attenzione comunque quando si conoscono personaggi online, salutiamo anche Cristina, quando si conoscono personaggi online di cui non ci si può conoscere, che di fatto non conosci, non conosci neanche la voce. Lui aveva semplicemente solo messaggiato. Ecco, la domanda è come ci si può innamorare online? Ma questa è una domanda alla quale ti potrei dare una risposta in diretta. Com'è possibile, ad esempio, comprare la fortuna? Perché, se andate a vedervi la, diciamo, la fiction, come si chiama, la serie di Vanna Marchi, lei vendeva la fortuna, no? Che, tra l'altro, è una delle cose più... vendeva i numeri dell'otto vincenti. Che, tra l'altro, credere a questa cosa è una delle cose più assurdi in assoluto, no? Eppure, fior di laureati hanno comprato i numeri all'otto, che poi dopo, vabbè, sarebbe il meno quello, no? Perché poi lei, dopo, il problema era che minacciava le persone, insomma, c'è tutto un discorso dietro. Però uno potrebbe anche vendere i numeri all'otto. E questa è la cosa più assurda, no? È la cosa veramente più assurda perché, se io avessi i numeri dell'otto vincenti, o del superenalotto vincenti, qua sapete che hanno vinto 370 milioni, e me li vado a giocare io, non è che vado a venderli, non è che vado a vendere i numeri dell'otto che poi vengono divisi, no? Il motepremi viene diviso e sarebbe un contrologico, no? Se io ho i numeri vincenti, non è che vado a darli in giro così il motepremi diventa sempre più basso, no? Cioè, non lo farei mai, no? Andrei a giocarmeli e vincerei io, ovviamente. O numero del superenalotto, quello che è, no? E invece ci sono persone che riescono a credere a chi ti vende la fortuna. E quindi figurati se non credi a persone che online tu puoi, diciamo, innamorarti. E il problema qual è delle persone? Che noi, le nostre mancanze, le nostre mancanze ci fanno vedere, ci fanno prendere, come si dice, il luccio le perlanterne. Perché probabilmente le persone che compravano la fortuna avevano bisogno di vincite, di qualche cosa. E sono i nostri bisogni che ci fregano. E quando noi diventiamo bisognosi di qualcosa, non mettiamo più in atto, ma non dico verifiche di realtà, diciamo così, eccellenti, ma neanche le minime verifiche di realtà. Tipo, insomma, se messaggi con una persona, ma ti vorrà prima di innamorarti perlomeno fare una videochiamata, non lo so, perlomeno una chiamata da sentire la voce, capire se è una voce femminile o meno. Questo, manco quello l'aveva fatto. Sei innamorato semplicemente con dei messaggi. E quindi, poi, noi ci lamentiamo che le persone spariscono, no? Allora, ci sono due tipi di sparizioni. Ci sono le sparizioni online di persone che non hai mai conosciuto, eppure ci sono persone che soffrono. Ma lasciatemi dire, da quel punto di vista lì, se è un coglione. Se è un coglione tu e quindi ci devi mettere una pietra sopra, non stare neanche a capire perché questo è sparito, perché non è sparito. Devi chiudere, metterci una pietra sopra e dire la prossima volta non mi faccio più infinocchiare. Questo è un dato di fatto, no? Questo è un dato di fatto. Cioè, persone che manco conosci bene, che non sai esattamente chi sono, o che hai fatto solo delle conoscenze online, non c'è assolutamente, diciamo, da porsi delle domande, no? O da fare nessuna cosa. L'unica cosa è non soffrire. Perché se soffri, poniti la domanda, perché soffri? Sei un coglione, sei un coglione. C'è poco da fare, no? E chi è causa del suo mal pianga se stesso. Non puoi stare a, come dire, non puoi stare a perdere del tempo, a dare le perle ai porci. Poniti la domanda di qual è il tuo bisogno insoddisfatto che ti ha fatto innamorare di una persona che manco conoscevi. Perché questo è il vero assurdo, che una volta non succedeva, ovviamente, ma non è che una volta non succedeva perché l'essere umano era diverso, no? Perché forse magari succedeva anche tra quelli che si scrivevano con l'australiana, magari che non vedevano mai neanche una volta, anziché l'SMS e mandavano la lettera, no? C'erano quelli che si sposavano con una che abitava in Australia, che manca avevano mai visto, vabbè. Se ne sente un po' di tutti i colori. Quindi l'essere umano ha questa indole e io credo che sia dettata dai nostri bisogni. Più siamo bisognosi, più prendiamo lucciole per lanterne. Quindi il messaggio, lo warning, è attenzione alle relazioni online, a persone che manco hai visto una volta, a persone che non hai neanche fatto una videochiamata una volta, a persone che non sai che faccia anno, non sai chi c'è dietro, lascia perdere, devi essere un coglione o una cogliona a innamorarti, datti le martellate sulle dita piuttosto, per svegliarti, diciamo. E quindi poi c'è una... E poi invece ci sono delle persone che ti bloccano. Sì, quante donne truffate a Torino? E poi ci sono quelli che ti... Ci sono due tipi di truffe, adesso mi viene in mente, c'è quello che viene chiamato revenge porn, cioè quelli che si fanno mandare, magari delle foto nude, diciamo così, o in atteggiamenti, diciamo, e poi dopo magari ti ricattano, dicono guarda che mandiamo queste foto, le diffondiamo nel web, se tu non ci dai. Quindi c'è questo ricatto, che poi magari di sotto sono africani o cose, non è che è quello della porta accanto, per cui anche la polizia postale non ci può fare niente, perché magari provengono da paesi africani o va a sapere dal culo della Cina, per cui, come dire, se ti diffondono le foto non ci puoi fare un cazzo con quelli, perché magari non puoi neanche fare niente, no? Perché... Quindi state attenti, questo fenomeno si chiama revenge porn, state molto attenti. E poi ci sono quelli che invece piangono miseria e ti dicono, ah, guarda, mi è capitato questo, mi è capitato quello, ho la mamma malata, o che ne so, mi si è rotto il termosifone in casa. E si fanno mandare dei soldi, salutiamo anche la faga. E questa è un'altra tipologia. C'è il film di sordi, bello, onesto, impiegato, che poi lei faceva la mignotta e lui non era così bello, perché aveva matto la foto dell'amica. E questo film di sordi che dice Green Apple è un film interessante perché è una doppia truffa, no? Perché lui cercava l'illibata, però era un cesso e quindi ha mandato la foto del suo amico. Lei, che diceva di essere illibata, in realtà era una prostituta di professione, no? Per cui si sono prese per il culo la vicenda fondamentalmente. Ed era una delle prime, diciamo così, truffa online. Oh, un saluto anche a Giorgio Cameli, un tipo su Messenger con me ci ha provato, lo ha lasciato scrivere, ha bisogno di soldi, le risposte che non hanno neanche più i soldi per piangere. Esatto, esatto. Ci sono tutte queste situazioni in cui bisogna fare molta attenzione nelle conoscenze online. Grande Giorgio Cameli, battito di ciglia, sentire della felicità, mi raccomando. Bisogna fare molta attenzione online perché c'è il fenomeno del revenge porn, che è un fenomeno, salutiamo anche Noemi, un fenomeno estremamente negativo. E c'è anche il fenomeno appunto della truffa online di persone che sfruttano proprio il bisogno delle persone. Perché io sono sempre più convinto che sono i nostri bisogni del caso Lollobrigida. Se sapessi cos'è il caso Lollobrigida, non so che qual è il caso Lollobrigida. Non conosco il caso Lollobrigida. Forse che sei innamorata di uno molto più giovane, può essere, non lo so, non ho seguito molto bene il caso. Deduco che si possa essere innamorata di uno molto più giovane. Vaffa online. Bisogna raccogliare un nuovo tema. Eh sì, perché queste conoscenze online sono conoscenze strane. Comunque questa storia dell'uomo diciamo l'ho sentita, vabbè c'è stato quel caso lì diciamo che ha portato a un duplice suicidio, quindi un caso veramente grave. Ma ci sono tanti casi che si sentono diffusi online a Rital Badante. Eh beh, non lo so. Diciamo che Lollobrigida aveva figli, non aveva figli. Non lo so io com'è la storia del... Beh, lì è un discorso non avendo figli. So che ad esempio anche addirittura... Ah, è metà del figlio che non vedeva anni. Eh vabbè, non lo so. Questo non lo so. Ci sono persone che comunque lasciano... Ad esempio, mi sembra che anche Sandra e Raimondo Vianello che non avevano figli hanno lasciato l'eredità a una sorta di figli adottivi, diciamo, che erano comunque i loro camerieri, i filippini. Credo che anche Sandra e Raimondo avesse una cospicua... un cospicuo patrimonio, però, perché entrambi erano artisti affermati. Eh... Sì, beh, questo... Non lo so. Credo che... Boh, se una scelta viene fatta, diciamo, da una persona capace di intendere e di volere, è giusto che magari se il figlio non lo vedeva e il badante l'ha aiutata fino alla fine è che lascia le cose al badante. Bisogna sempre vedere. Non è che si può esprimere un giudizio a priori, a prescindere, diciamo. Perché a volte i figli magari sono, come dire, sono... peggio degli altri. Che non è detto che perché uno sia figlio sia una bra persona, no? Cioè, ho tratti bene i genitori, no? Quindi lì dipende molto dalla cosa. Comunque, tornando al discorso, diciamo, del fatto che a Tony Robbins, Tony Robbins, una donazione ai catramisti, potremmo fare una donazione ai catramisti d'Italia, esatto, dalla situazione dei catramisti. Beh, comunque, quello che stavo dicendo è interessante, no? Vedere invece che ci sono anche delle situazioni di persone che hanno una relazione dal vivo, diciamo, e poi l'altra persona improvvisamente, tac, sparisce. E qua bisogna capire quali possono essere le motivazioni per cui una persona sparisce. Diciamo che una sparizione, ad esempio, tipica la fanno i narcisisti, ad esempio. I narcisisti hanno la tendenza a sparire. In questi casi, quando una persona ti sparisce improvvisamente, quello che bisogna imparare a fare è utilizzare la psicologia inversa, cioè alimentare, e questa è una tecnica secondo me importante, per alimentare la propria autostima. Perché noi, come facciamo ad alimentare la propria autostima? diciamo che nella nostra mente ci sono tante istanze nella nostra mente. Il buddismo descrive i 51 fattori mentali, no? Ma la nostra mente è come un condominio, fondamentalmente, con tutti i vari condomini. E come il nostro corpo, il nostro corpo non è, è fatto da tante parti, non è un'unità. No, se io prendo il mio corpo, che cos'è il mio corpo? Beh, è fatto dalla pelle, dalle ossa, dai vari organi, dal cuore, dalla milza, dal fegato, dai reni, dalla prostata, dai genitali, insomma, è fatto dai muscoli, dal grasso, insomma, è fatto da tante parti, no? Ma anche la nostra mente è fatta da tante parti. C'è l'istanza logica, c'è l'istanza emotiva, e c'è, tutte queste parti fanno parte del condominio, no? Sono tutti i vari condomini che coabitano nella nostra mente. E c'è quella che io amo definire coscienza, che invece rappresenta un po' l'amministratore del condominio. È quella parte che dice questo è giusto, questo è sbagliato, tu sei un coglione. E tu sei un coglione e la coscienza è un po' l'arbitro, no? E le persone che giocano la partita sono, diciamo, ad esempio, l'istanza logica e l'istanza emotiva. Se l'istanza logica e l'istanza emotiva che giocano la loro sfida vanno d'amore e d'accordo, l'arbitro non interviene, non deve estrarre il cartellino rosso, il cartellino giallo o l'espulsione. È come se l'amministratore del condominio, se i condomini vanno tutti d'accordo, non ha bisogno di intervenire. Quando invece i condomini iniziano a litigare, uno ce n'ha una, uno ce n'ha l'altra, allora ecco che deve intervenire per forza l'amministratore del condominio. e interviene sanzionando. La coscienza è la vara, esatto, e va a sanzionare. Siamo noi stessi. In un'ottica buddista potremmo dire che l'interdipendenza tra le nostre parti della mente è la coscienza, cioè la connessione tra tutte queste parti e questa coscienza. Allora, la coscienza, se la parte logica, che è la parte adulta, si autopenalizza, cioè uno inizia a sparisce, e tu inizia a inseguirlo, inizia a fare la sottona, inizia a fare lo zerbino, inizia a fare il sottone, inizia a inseguirlo, la coscienza ti sanziona. Come ti sanziona? Facendoti stare male. E abbassando il tuo livello di autostima, ti dice, sei un coglione e dà ragione alla parte emotiva, che la parte emotiva si gode, no? Il tutto, perché si puppa le emozioni comunque. Ora, invece, noi, se veniamo, come dice giustamente Samuela, rifiuta chi ti rifi... Noemi, scusa, Noemi Samuela, non so qual è il cognomo, qual è il nome, dobbiamo imparare a darci l'emozione dell'orgoglio, l'emozione, devo dire, ah, tu hai fatto così e io non ti prendo neanche in considerazione se fossi in punto di morte, se tu fossi in punto di morte, ti negherei pure l'estremo unzione, cioè per dire, no? E me ne frego assolutamente di te, non mi interessi più, non ti dedico neanche un pensiero, io sono, io valgo, no? C'è qualcuno. Ecco, quindi, darsi l'emozione dell'orgoglio, perché questa emozione dell'orgoglio, della dignità, è un'emozione fondamentale. Io oggi leggevo, tra l'altro, oggi è l'anniversario, 17 febbraio, del, della, del rogo di Giordano Bruno, no? E Giordano Bruno, che adesso al 1500 e qualcosa è stato mandato al rogo il 17 febbraio, quindi è l'anniversario, quindi facciamo un giro di campana in onore di Giordano Bruno, che, diciamo, secondo me è stata, e lui ha lasciato uno scritto dove dice che per me è molto più importante, diciamo, essere un uomo che ha affrontato le cose, piuttosto che, diciamo, aver abbiurato, no? Quindi lui si è dato un'emozione molto forte ed è andato, diciamo, al rogo, come dire, con una grande emozione, no? Quindi dobbiamo dare, adesso, noi non siamo ai livelli di Giordano Bruno, nessuno ci vuole mettere sul rogo, ma tutt'al più ci mettiamo sul rogo da soli, quindi dobbiamo imparare a uscire fuori da questo meccanismo nefasto, dobbiamo uscire fuori da questo meccanismo perverso e darci emozioni positive iniziare dall'emozione dell'orgoglio soltanto se ci daremo l'orgoglio riusciremo a ribaltare la frittata riusciremo a distruggere totalmente questa nostra disistima e svilupperemo autostima e come dice Giorgio Cameli l'orgoglio è l'amore proprio riesce a canalizzare la rabbia esatto la rabbia dobbiamo canalizzarla in obiettivi quindi se noi proviamo rabbia verso questa persona ci diamo l'orgoglio tagliamo completamente i ponti verso questa persona neanche in punto di morte andremo a vederlo e canalizziamo la nostra la nostra canalizziamo la nostra energia verso nuovi obiettivi avremo una grande forza avremo una grande motivazione più ti colpiscono più devi essere motivato a emergere più ti colpiscono più devi essere motivato a vincere devi trasformare diciamo così questa rabbia di chi in qualche modo ti vuol ferire negandoti diciamo la presenza chiudendoti questa energia deve diventare motivazione a diventare una persona ancora migliore a diventare a darti un obiettivo e vedrai che avrai la forza l'energia di raggiungere questo obiettivo ce la farai tranquillamente basta basta che crei questa alleanza questa nuova ed eterna alleanza tra te e la tua sfera emotiva